bella ragazzi come Federix oggi siamo tornati su un nuovissimo video sono in una limousine ragazzi faccio un limousine troppo bella con la mia sorella questa la faccio di Federix non dite che mi piace sennò vi do un pugno e vi faccio arrivare in Africa faccio bere champagne champagne sbagliato se vi rompete il cazzo vi ammazzo faccio la tv se faccio così con la videocamera mi viene troppo male poi beh saluta youtube se la mia sorella se la mia sorella ora me la do mi sono dormendo qui e niente questo era un video particolare bellissimo si sono in una bellissima limousine ora me ne vado a casa con questa se mi vado va bene ragazzi il video si conclude qua e noi ci vediamo con la sua